La consapevolezza è la capacità che abbiamo di conoscere mediante sensazioni e sentimenti, quello che i filosofi chiamano qualia. Siamo nati con la consapevolezza, è parte di chi siamo, è l'essenza di chi siamo e quindi la consapevolezza non è un qualcosa che bisogna acquisire da fuori, di fatto la coscienza è quella che definisce la nostra interiorità, il fatto che noi abbiamo delle esperienze interiori e queste esperienze interiori non sono riproducibili, sono private, quello che provo dentro di me lo posso provare solo io. Le macchine non hanno coscienza perché la coscienza è un fenomeno quantistico, solo attraverso l'esperienza è possibile conoscere, un'esperienza senziente ci porta a conoscere. Se noi capiamo chi siamo e non siamo macchine, come ci dice la scienza, noi potremmo veramente creare una società migliore. Grazie a tutti.